E adesso ci spostiamo ad Alcamo, parcheggio sotterraneo chiuso da circa tre mesi. L'intervista per noi all'assessore Butera. Parcheggio di piazza Bagolino, già chiuso da molti giorni. Un disservizio ma dato da cosa? Il disservizio è causato dalla necessità di manutenzione del parcheggio. E' una manutenzione che riguarda soprattutto la parte della sicurezza. Quindi dobbiamo mettere a posto numerose lampade che non funzionano, fare una verifica della centralina antincendio e poi dobbiamo rinnovare la formazione antincendio ai lavoratori e anche il documento di valutazione dei rischi. Però questo si poteva fare prima o come mai tutti questi giorni? Il tema della lentezza nella pubblica amministrazione credo che sia un tema piuttosto generale. Noi avevamo pensato di poterlo fare nei tre mesi in cui normalmente il parcheggio viene usato di meno. E però questo tempo in parte è servito perché alcune attività realmente sono state fatte. Per esempio quella di rinnovo del contratto con i destintori. Altre attività però ci stiamo ritrovando a farle adesso, proprio in questi giorni. Ci sono dei tempi certi perché ci sono stati dei problemi anche di viabilità. Persone con la macchina che escono dal parcheggio non ricordano oppure la strada è diventata a doppio senso e invece prima era a senso unico. La strada è a doppio senso già da qualche settimana. Sono stati anche settimane in cui abbiamo vigilato attentamente sul fatto che il doppio senso fosse realmente efficace perché ci rendiamo conto che quel punto è un punto importante e può costituire un pericolo. Secondo noi il doppio senso già ormai dovrebbe essere entrato abbastanza nella normalità per il guidatore alcamese. Ritornando ai tempi perché ora ci sono anche le scuole aperte e lì può diventare un problema. Io credo che entro settembre noi dovremmo riuscire a riaprire il parcheggio e risolvere tutti i nodi che ci sono in questo momento.